Uomini e donne news Uomini e donne news, Sabrina Ghio torna sui social, il primo messaggio Uomini e donne news, Sabrina Ghio scrive il primo messaggio dopo la scelta. Sabrina Ghio dopo la scelta Uomini e donne è tornata sui social, condividendo una foto con Maria De Filippi su Instagram. L'ex tronista ha deciso di pubblicare l'immagine che la ritrae stretta in un abbraccio con la conduttrice del programma. Sabrina ora ci tiene a ringraziare sia Maria che tutti i fan che l'hanno sostenuta durante questo percorso. Quest'ultimo, purtroppo, non si concluso come la Ghio desiderava. Sabrina ha scelto Nicolo Ragnolo, il quale però ha risposto con un no. Si tratta di una scelta che ha portato a diverse polemiche contro l'ex corteggiatore, che si è dovuto difendere dall'accusa. . Nicolo aveva già lasciato il programma una settimana prima della scelta. La Ghio ha tentato di andare avanti con il suo percorso con Nicolo Fabbri, ma il suo pensiero volava verso il Ragnolo. . Per tale motivo, si è armata di coraggio e ha deciso si scegliere, consapevole del fatto che avrebbe potuto ricevere un no come risposta. . Dopo la messa in onda della scelta ha deciso di tornare attiva su Instagram e di condividere un profondo pensiero. . Ed eccomi ancora qui, stretta in un abbraccio che ti avvolge davanti ad una delusione. . Perché in un abbraccio puoi trovare rifugio, puoi trovare un conforto, puoi aggrapparti ad un abbraccio e puoi trovare la forza di rialzarti. . È così che Sabrina inizia il suo messaggio su Instagram dopo la messa in onda della sua scelta, ricaduta sul Ragnolo. . Perché non servono parole quando tieni stretta a te una persona, basta il calore di quelle braccia. . Ecco io avevo bisogno di quello per andare avanti continuare a sorridere e ringraziare lei e tutti voi. . L'abbraccio con Maria De Filippi, per la GIO ha avuto un grande significato, soprattutto in un momento così difficile. . News uomini e donne, Sabrina nel cuore di Gianni Sperti. . Sabrina è entrata nel cuore dei telespettatori, ma anche della redazione del programma. . In particolare, Raffaella Minnoia, dopo la scelta, ha condiviso alcune foto in compagnia della GIO. . Anche Gianni Sperti ha espresso tutto il bene che prova nei confronti di Sabrina. . La sua personalità è stata particolarmente apprezzata dall'opinionista, che la ritiene una vera donna. . . . . .